Sicuramente l'esposizione a terra e in acqua, abbiamo imbarcazione di grandissimo livello, i più grandi cantieri in Italia hanno deciso di puntare sulla nostra regione, questo è per noi motivo d'orgoglio ma soprattutto per la regione è un segnale di attenzione del comparto verso la Puglia che può rappresentare un bacino d'utenza importante. E poi i temi della formazione, a noi molto carico, l'assessore Leo, avremo ancora il villaggio della formazione perché le competenze in questo settore mancano e dobbiamo qualificarle, così come anche il turismo nautico. L'assessore Lopane è impegnato sui tavoli tecnici di lavoro, quello del turismo nautico, della portabilità turistica devono essere temi che dobbiamo gestire per bene ma che possono dare veramente grande gusto alla nostra regione.